Per questo dire è il gran effetto. Quando si viene a dire per questo dire di teoria e anche pratica, non siete amati a fare nulla, né a dare nulla se non può partecipare al dono che il padre fa a noi di suo figlio. Non si chiederebbe per restire. Se non fosse la punizione totale del dono, non c'è più niente da chiedere, c'è tutto da accogliere nei campi nazionali. Chi ha pensato a non l'Eucalistia, perché ti ricordo la memoria di un'esercito presente dove dice Gesù Paoloino, volevo dirci cosa. Chi vive l'Eucalistia accoglie la totalità per te, che vanno in un'esercito per noi. Vi procederebbe a chiedere se già la risposta di Dio è totale. Ma oggi io voglio imparare a questa cosa insieme, cercare di capire perché l'Eucalistia non è presente. che cosa c'è in questa tutta lontana. Noi non possiamo dire che l'Eucalistia è il modo totale di Dio, ma parliamo dell'esercito di sapere perché viene chiamato così. il mondo che ciascuno di noi quando contempla il mistero dell'Eucalistia sappia perché resta vivendo. Un'altra piccola conversione, a cui siamo chiamati oggi, ma credo che è una conversione, a cui siamo chiamati tutte le volte che andiamo da Dio, e che noi non siamo qui per Dio, ma Dio è qua per noi. Questo è quello che spiega. Spiega per noi quando parliamo del Chieso, che abbiamo la nostra domenica, di riempire tutte le nostre cose, e non perdiamo la grazia di riempirci del Dio, che è la cosa che è importante. quindi io vorrei cercare di comprendere il valore dell'Eucalistia, che è nato ogni tempore dell'Eucalistia e non si può spiegare, ci vorrà l'eternità di comprenderlo nella Chiesa. Però la Chiesa che è stata istruita da tutto l'Eucalistia che fa la verità tutta l'intera che altro non è che l'Eucalistia ci insegna, perché l'Eucalistia viene considerata giustamente il pertice, il culmine, l'apice della vita della Chiesa, ma quindi anche di noi e quindi per tutta l'umanità. non vale dire che l'Eucalistia è tutto se tutto non riempia. Perché io sono chiamato a partecipare a questo dolore. Non solo voglio di cederlo, ma anche di cederlo. Ma non posso cederlo se non ho vissuto, e non lo posso credere se non ho accorto, e non lo posso accogliere se non ho preso. Faccio una conversa. Qualche vicina di anni fa, qualche vicenda fa, esisteva ancora la fede dell'Eucalistia che non avevano bisogno di conoscere. Quale istilottimanza per chi è l'Eucalistia? Semplicemente avevano la fede dell'Eucalistia per tutto. Per dicevano tutto, tutta l'Eucalistia, di quanto nella vita sapevano che la presenza di Dio e di loro per l'antrovedenza, per l'antrovedenza, per l'antrovedenza, per l'antrina, sostegno, e di loro per l'antrovedenza, per l'antrovedenza, per l'antrovedenza, per l'antrovedenza, e per l'antrovedenza, per l'antrovedenza, e per l'antrovedenza, perché non c'è più quella fede, ma anche l'antrovedenza, per l'antrovedenza di Dio, oggi, grazie a Dio, ci siamo cresciuti nella consapevolezza, ma c'è un problema, che oggi si tengono più il problema di che cosa sia la parma di cosa sia veramente. Quando uscirete, prendete una cartellina che ha detto qualcosa che vi ricorderà di questo mistero che parleremo e che faremo in questi giorni. Innanzitutto, tengo a decisare che i due giornali, o i centri umani, si occuporranno in tre momenti dei detti. Il primo momento sarà parlato, il secondo, di scinto, che è la parazione di te, il terzo è il cedro, che sarà assolutamente. in modo che in un crescente dell'ante qualche ora, noi possiamo accogliere la parola che ci arriva al mistero alla contemplazione del Dottore. un palco stesso, un palco stesso, ci può fare un'esperienza completa di Dio, e poi arrivare a celebrare l'opensia con piena coscienza. Un po' perlomeno con la coscienza che il Signore ha fatto crescere nel palco di Dio, a tutti noi. Un bel viso di due giornate del primo giorno, oggi, lo dedicheremo all'odore più cristiana nei confronti della guarigione, della guarigione, dalla memoria e soprattutto dalla guarigione del cuore nei confronti della nostra vita. e, o d'anzi, che il Signore possa anche guarire qualcuno di noi fisicamente. Questo ciò problema. Comunque, fatta la sua volontà. Ma, di sicuro, tutti potranno guarire per le migliori prevenzioni del cuore a partire dalla figliezza della crescente. E' inevitabile che sia la Chiesa quella cosa vuol dire, mentre un po' ci chiediamo per quell'antile con la guarigione, domani, vedremo un altro verbo. di impanare, impanare, impanare con Gesù. perché l'Eucharistia toglie, vedola, toglie il peccato, toglie la felizione, toglie quello che è per tutti i sentimenti, quella che abbiamo, e ci dona la crescente. e le due cose ci sono non si può crescere nell'amore se non si guarisce con l'amore. oggi. Se volete, usate uno slogan che mette insieme in queste giornate oggi, offrire la nostra vita a Dio, per essere guariti dalle ferite che ci sono qua di più o di meno. domani, domani, regheremo, e allora vedremo il Signore per amare chi ci ha avuto. Toglie, vedola. Adesso vediamo questo che è il mistero di Dio Cristiano, che diamo il suo e il dono dello Spirito, perché il mare del mistero di Dio Cristiano è sempre entrare del sagrare di Dio. Bisogna ragionarsi di canzare invece Musè per entrare nel sangue dei santi in quello che è il nuovo venimento che ha celebrato il più grande venimento della storia. In ultimamente, in ultimamente, una cosa la sappiamo di Dio Cristiano. Che Dio Cristiano parecchie cose lo sappiamo ma le dobbiamo mettere in fila. La prima cosa che Dio Cristiano ci può dare sono due centri che sono la dualità e la perventualità. Quando parliamo di Dio Cristiano parliamo di dimensione totale. Nel Cristiano c'è quattro Cristo è un gua per tutti da tutta la sua vita il padre tutto da tutti il fuori di suo figlio ognuno 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 di tutti c'è la grazia a partenza di Dio Cristiano. E al tempo stesso questa totalità viene per quattro del tempo in ogni attimo questa totalità si è presente a noi quindi noi oggi cerchiamo di comprendere perché c'è la reazione esplendissima oserei dire unica tra l'eucalistia e l'evento della Luce l'evento della Passione di morte per il suo Dio Cristiano. L'eucalistia è la non la ripresentazione ma prendersi presente a noi di un mistero quanto è tutto due mili anni fa quando Gesù con gli Apostoli istituì l'eucalistia quando disse l'eucalistia sulla Luce e quando poi la potenza della Resurrezione consegnò a noi un mistero di canza e di comprare ora cosa sappiamo noi del mistero per noi sappiamo di certo che c'è tua sofferenza perché lo sanno tutti purtroppo tanti troppi si fermano alla sofferenza e qualsiasi ormai sofferenza fa male tu e me non dico qualsiasi ma è difficile che la persona faccia il fatto di qualità per dire la misura del suo dolore e la misura di nessuno umano questo è il primo passo per l'umanità comprendere il dolore del discurso per fare parlo parlo dell'umanità per l'umanità per l'umanità per l'umanità per l'umanità che è il primo presente di tutta la sua persona per questo è forse l'unità più conosciuto ed è anche il valore che va determinato la divozione no? per rispetto alla sacralità del mistero di quanto Gesù presente ma non vogliamo andare oltre perché vogliamo proporci una domanda e la chiesa ci dà la risposta a questa domanda perché Gesù ha guarito tutti i peccati di tutti gli uomini conciuti sulla voce come ha fatto cosa è successo voi sappiamo la maggior parte delle persone che lo sa che Gesù si è incaricato anzi ha assunto in sé tutti i peccati di tutti gli uomini di tutte le donne di tutti i tempi ti chiamo c'è una patina ogni ogni peccato di ogni che è la patina di tutti i tempi di tutti i tempi